buongiorno ragazzi e dopo il pensiero del giorno eccoci pronti per una nuova sfida oggi vogliamo concentrarci su qualcosa che ci manca tanto 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 in questi giorni il contatto umano, l'affetto, il poterci toccare, il poterci vedere, il poterci abbracciare, il poterci baciare quindi abbiamo deciso che la sfida di oggi sarà una sfida dove mandiamo più baci possibili al mondo ecco perché l'hashtag di oggi è ti mando un bacio, visto? io ci ho messo le faccine, i cuoricini, voi scrivetelo come volete e con questo hashtag la foto che dovrete fare è questa oddio, ne potete fare quante ne volete, una, due, tre, cinque, dieci, quante ne volete la foto dove ci baciamo, ovvero per chi vive con qualcuno può essere una foto dove ci si bacia il bacio sulla guancia, fidanzati un bacino sulla bocca, quello che volete oppure una foto dove mandiamo un bacio a qualcuno, non importa a chi, a qualcuno arriverà questo bacio può essere una cosa così, oppure un bel bacio stampato, quello che volete potete, ripeto, potete farne quante ne volete, più sono, più il collaggio sarà grande prendetevi il vostro tempo, come ho detto nelle spiegazioni di ieri non è una sfida tempo, vogliamo che siano foto belle, colorate, dove si vedono bene le facce ma anche quello che facciamo, quindi spargiamo un po' di baci in giro mi raccomando, buona sfida, ciao!